Buongiorno l'archidemia di Milosoro, l'archidemia della medicina per l'anima. Allora, oggi volevo parlarvi di questa mini, di questa miniatura, la plerotale di leptotipoli. Adesso ho i bocciolini, vedete i bocciolini? Quando si è affiorita apremmo video anche dei fiori, sono quelle che solitamente chiamiamo l'archidemia degli scemi. C'è tutta una storia, abbiamo fatto anche dei video sull'archidemia degli scemi, è una storiella molto, molto graziosa. Vabbè, oggi volevo parlare di... cioè recentemente, nei giorni scorsi, c'è stata una persona che mi ha chiesto su YouTube se si poteva fare un video di come tenere in un locale unico piante da caldo e da freddo, da sole e da ombra. Cioè, dipende da cos'è questo locale, se è un normale locale 3x4, 4x4, non è possibile avere piante da caldo e da freddo assieme. Cioè, questa sera qui è 750 metri quadri e ha l'angolo là che è più caldo, quello in fondo che è più fresco, ma è una sera di 750 metri quadri. In un locale 4x4, cioè non è che cambia tanto la temperatura da un angolo all'altro. Una buona cosa è, dove tenete le orchidee, misurare nelle varie ore del giorno la temperatura. Potete misurarla con dei termometri, quelli elettronici, che registrano la temperatura minima e massima. Così saprete la minima e la massima nelle varie ore del giorno. È importante soprattutto la temperatura notturna, perché è quella che conta la temperatura notturna d'inverno. Poi, potete misurare anche l'umidità e anche la luminosità che si misura con il luxometro. Così avrete dei dati precisi di come sono le condizioni che avete voi. Le piante sono molto adattabili, le orchidee sono tra le piante più robuste che c'è. Poi gli ibridi sono ancora più adattabili delle specie botaniche. Però, una pianta da caldo non si può tenere a freddo e uno da freddo non si può tenere a caldo. Una che vuole tantissima luce non si può tenere all'ombra e uno da ombra non si può mettere con tantissima luce. Questo non si può, soprattutto in un locale piccolo. In un locale normale non è possibile. Potete tenere magari un locale normale, non so, in un angolo quello più da caldo e l'altro quello più da temperato, ma non quello da fresco. Oppure potete da fresco quello in un angolo e da temperato nell'altro, ma non si può andare da un estremo all'altro. Il mondo delle orchidee è vastissimo, praticamente è infinito, non c'è fine. Parlando delle specie botaniche, degli ibridi poi è ancora peggio. Gli ibridi sono stati superati, non so quanti anni fa, i 200.000 ibridi registrati. Quelli non registrati non li sa nessuno, per cui gli ibridi sono infiniti. In un locale, cioè dovete capire quali sono le condizioni che avete voi e dovete prendere piante adatte a queste condizioni. Come dicevo, soprattutto gli ibridi sono molto adattabili, a qualche grado in più o in meno, un po' più di luce o un po' meno. Perché appunto gli ibridi, mentre le specie botaniche vivono in determinato ambiente, gli ibridi non hanno la memoria. Soprattutto gli ibridi complessi, come i ibridi commerciali, che hanno un albero genealogico come la guida del telefono. Per cui questi si adattano molto bene a piccole variazioni, ma a piccole variazioni non si può ammettere un cimbinium al caldo e una palenopsis a freddo, assolutamente. Questo non è possibile. In un locale unico si può ammettere le piante che possono stare più o meno in queste condizioni. Cioè ci può essere, come dicevo, delle piccole, qualche grado in più, qualche grado in meno, un pochettino più di luce, un pochettino meno. Non è un problema, ma tanta differenza no. Quale è un problema? Non è possibile, cioè non è propriamente possibile. Non è possibile.